buonasera è la prima serata del tango organizzato dal gruppo amatori tango termoli e abbiamo un progetto meraviglioso da portare avanti per il prossimo anno tango sociale tango e cultura tango e musica tango e danza tango e inclusione si ringraziamo l'amministrazione comunale in particolare l'assessorato turismo e spettacolo la persona del sessore marile ringraziamo il sindaco per la bellissima accoglienza la pronta accoglienza ricevuta e questa bellissima location che ci ha permesso questa prima milonga delle amici del tango di termoli qui a termoli grazie infatti oggi personalmente l'assessore mi ha incaricato di dare il suo saluto alla buona riuscita della manifestazione e che l'unico probabilmente da un impegno già preso sarebbe passato il tanto possibile